Italiani di terra, di mare e dell'aria, cosa volete voi? Le frasi lunghe o le frasi brevi? Colgo l'occasione per annunciare la pubblicazione imminente del mio libro. Metteremo la luce nei campi, così leggerete anche di notte. In cui parlo dell'Italia e delle sue antiche tradizioni, che poi non sono mica tante. Italiani di terra, di mare e dell'aria, da oggi si userà solo il punto fascista. Quello che non si scrive mai. Parlo anche di massoni. Che bello, che bello. E non chiedetemi perché l'ho scritto in inglese. I giornali italiani hanno sempre confermato tutte le mie previsioni. Non si legge? Guarda che non si legge. Guarda che non si legge. Non si legge. Cos'è non si legge?